L'ultima campagna in gara, vento reati, arriva d'amore, lei è iniziata a cantare sendo piccolissima, all'inizio ascoltavano un pochino dopo, si ingentrava e poi si ascoltava, poi è iniziato a registrarci le canzoni di Cristina D'Avena, poi dovrà arrivare le canzoni di Noè, di Noè la Rai. Ora è qui con noi, è stato amore a prima vista quando ho sentito questa canzone di B.O.C. dal titolo Listen, lei è Cristina D'Avena. B.O.C. 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 non avvantare troppo il microfono perché rischi che non si senta quanto li fai bene registro meglio all'inizio non hai forse respirato bene non si è capito tutto perfettamente a parte queste piccole il resto molto bene